Questa è una priorità assoluta, ma il lavoro per i giovani non cade dal cielo come la manna. È una priorità assoluta come obiettivo. Priorità assoluta come strumenti per arrivare a quell'obiettivo sono situazioni più competitive nelle imprese e alcuni si sono opposti a un aumento della produttività delle imprese con accordi sindacali più moderni. Richiede un funzionamento del Paese come infrastrutture anche per attirare più turismo, per esempio, e alcuni si oppongono alla costruzione di infrastrutture. Richiede una politica unitaria nazionale per fare questo e alcuni che hanno riformato la Costituzione, il titolo quinto in passato, hanno spezzettato le competenze su tutte queste cose alle province, alle regioni, eccetera. Quindi tutti sentiamo nel cuore l'obiettivo del lavoro per i giovani. È un'infamia questa disoccupazione giovanile, ma dobbiamo allora per coerenza sentire nel cuore la priorità di tutti questi altri obiettivi intermedi che sono necessari per tradurre il nostro cuore in fatti e dare davvero il lavoro ai giovani. Per questo io voglio creare una coalizione di riformatori. Non mi importa niente se vengano dalla destra o dalla sinistra, basta che smettano di bloccare il cambiamento e si schierino per il cambiamento a favore dei giovani.